I report sono quelli Hai ostaggio collaborare col killer Non giocare Forse non lo so Mi ricordo Dopo provo a vedere reportandone uno Ho visto gioco uno lì Due qui Spring forse si vedeva Non so Non so Tutto pure il potere Porca puttana Il problema è che con Con la terza persona Già L'eatbox È sempre stato buggato Del Del pallet Con la terza persona Fai anche più fatica A capire dove cazzo sta E ti stunna più spesso Ma a me succede Ok 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 Nice L'abbiamo beta Da facendo andare Dove pensava che io andassi poi Comunque anche questi loop qua Al poterli vedere in terza persona Vedi esattamente dove stanno andando Che è stracomodo Che sembra stupido Ma poterlo vedere È stracomodo Ok l'ha rotto Ma mi sono preso lì Dove per forza Non ci credo Non ci sono arrivato lo stesso Davvero Non ci sono arrivato Nice Ok Peccato Perciò un po' di tempo A lei è pure l'ossessione Tra l'altro Quindi ora la cambiamo Peccato Il fatto che era l'ossessione È la cosa peggiore In questo caso Sprint burst di merda Tra l'altro Era partita in realtà Se vedevi l'animazione Che mi stava strisciando Verso il pallet Perso scusa Il pallet Il Ragazzo si chiama Vabbè hai capito Guarda se l'ha allontanato Quanto cazzo corre raga What the fuck Vai niente Straveloce Nice 50-50 Cerco di avvicinarmi Il più possibile Verso dove penso Che sia L'ossessione Che sarà in uno Di quei due Già lì in fondo Porco Due però Ogni volta Non riesco a popparre Neanche echo Ok Riuscire a prendere value Con questo perk è buono Questo perk è molto forte Per prendere questo tipo di value Se riesci a A prendere un problema Che non sempre riesce E' la seconda parte Che mi cringe un po' Il fatto che cambia l'ossessione E mi rivela dove sta Perché tanto tu non vuoi andare Per quello che ha appena urlato Teoricamente parlando Che è un po' Controproducente Ok lei è perfetto Questa c'ha Stravolgimento Infatti ora non lascio Neanche più le tracce Ma invece no Perché non vedevo La sua aura Non ho idea Perché non vedevo La sua aura Perché non sei andata Per il pallet Vediamoci Sto hit a gratis Anche se è l'ossessione Di nuovo Uh Non ci sono andato Un pelo Peccato Nice Piccolo bait E anche qui il problema È sempre l'ossessione Distortion No perché non perde Aveva ancora le tracce Ciao psico Buonasera come stai Lasciava comunque Le tracce di Di cosa Ok quello ferito È diventato l'ossessione Che è stato curato Ottimo Se riuscisse a trovare la Michela Sarebbe top adesso Perché non mi fa vedere L'aure Però non perde le tracce Ha nerfato Stravolgimento Per caso Perché mi fa comunque Vedere le tracce E non dovrebbe Beh è un po' male Per il mal di gola Ma per il resto Uso il potere Per avvicinarmi In questo caso Anche se non di tanto Mi avvicino Un pochettino Ho ancora 10 secondi Per attirarla giù Ma ho dubito Di riuscirci a farla Provo il mind game Ma Ho dovuto provare La swing a sotto Sulla finestra Ovviamente lei ha cercato Di tenermi lontano Solamente però Peccato Ciao Glau Buonasera Non avrei fatto troppo No per me è uguale a prima In realtà Cambia letteralmente pochissimo Guarda forse Pre nerf L'avrei raggiunta questa Solamente questo Però È talmente infimo Come cambiamento Che Per me è identico Se fa scratch marks Distortion Puoi usar return Non c'è C'è anche return Buonasera caro Sto andando sotto In basement No Ho swingato troppo a sinistra Ho girato troppo L'avrei hittato qua Chirito Grazie al follow Ho venuto fra Serpentelli Spero che li troverai bene Qui con noi Ah ma ne abbiamo due appesi Nice Questo è ottimo allora Ottima situazione per noi Niente Ok si stanno curando Cosa molto sbagliata In questo caso Scello a curarlo Ho swingato perché pensavo fosse lì sotto No l'hanno liberata loro Comunque C'era anche il Sol vicino Non poteva essere l'anticamping Abbiamo ancora un Un coso Non so dove però Un eco di dolore Non so su chi Poi devo dire Forse su di lei Poi adesso provo No Però vediamo Lui Un po' lontano Ok potrei riuscire ad arrivarci Di a me uno Ottio So che c'è questo Che vuole fare il save di torch Però lo fa veramente male Sì riuscire ad applicarlo Una o due volte Questo potere Funziona bene Ma vai Cagare Ti basta applicarlo Una o due volte Ed è molto forte Tra l'altro Adesso possiamo sfruttare Il potere Il perk Per vedere l'ultimo Surve in teoria Dovrebbe per forza Urlare quello in piedi Vero? Non so Al massimo Ho vinto solo il 50-50 Sei nella merda Ok poverino Dov'è andato? Ah è quella con stravolgimento Almeno credo Quindi anche facendo così Non l'avrei potuta vedere Ma è che se dove cazzo sta rattando No è andato a salvare Non so quando è passata Perché c'ha stravolgimento Quindi usando il potere Non so dove sta Sprintino Quello intanto si resetta Off the record Off the record 3% Sprintburst E Consapevolezza E' bello che dice You're fine Come per dire E' tutto a posto E la traduzione dice E' la tua fine What the fuck Che cazzo è successo? No dice You're fine Secondo me Dopo Cioè la seconda volta Ha detto You're fine Asshole O you're mine Forse era No non potrebbe neanche essere Off the record Sono Michela Boh Sì la traduzione Comunque le fa Gente a casa Da l'altra parte Allora O la minchia è la città O non capisco Perché non vedo mai la sua aura Ok Dicevo infatti Che vuole essere qua Ed è comunque strano Una cosa Però ora Facciamo urlare pure Mag Quindi possiamo sapere Più o meno Dov'è E' il 3% Di clanaggine E' stato appena Nerfato Quindi No Trozione giusta Ma sì Tanto ormai E' chill Sai cosa E' proprio chill Giocarlo per me Perché è proprio tranquillo Capito Per chiedere pietà Forse Mi hanno fatto un 180 Non so come Muovo il mouse In momenti a caso Qual è il codice Per i punti sangue E' questo Aspetta Questo qua Ho appena scritto In su TikTok Buckle up For the people Di Meg Questa è la Buckle up For the people Adrenalina Comparsa E su Perché avevi Comparsa No Batman I'm too Young Sorry Per me Ho appena E su Pregno up For the people E su Pregno up Ho appena E su